In merito alle notizie pubblicate sugli organi di stampa nella giornata odierna faccio presente che un anno e mezzo fa un sito, diffuse notizie false sulla base di un documento uscito da chi stava facendo le indagini, da allora è passato un anno e mezzo, nel maggio del 2016 altre notizie di stampa sono tornate sull'argomento senza che però a noi fosse detto e a me in particolare fosse detto che cosa si contestava dopo un anno e mezzo leggo di nuovo dalla stampa e quindi senza che io ancora ad oggi possa aver mai avuto l'opportunità di chiarire la posizione, ulteriori notizie. Lo dico con assoluta certezza, la indagine e la ipotesi acquisitoria perché non siamo nemmeno al rinvio a giudizio, nemmeno alla richiesta di rinvio a giudizio, voglio sottolinearlo non c'è ancora nemmeno la richiesta di rinvio a giudizio, nessuno mi ha mai interrogato, nessuno mi ha mai chiesto chiarimenti da quello che ho potuto vedere indirettamente ci si basa su documenti totalmente sbagliati, totalmente errati e io continuo a mantenere fiducia nella magistratura ma vorrei che qualcuno mi chiamasse perché io avesse la possibilità di dimostrare che quello che è scritto è totalmente infondato, cioè si basa su documenti sbagliati probabilmente presi in buona fede ma sono documenti totalmente sbagliati io penso che non sia civile un paese nel quale i processi si fanno sui giornali prima ancora addirittura che si dia la possibilità a chi è indagato di parlare, nessuno mi ha mai interrogato e quindi attendo di essere interrogato e sono sicuro, non ho la convinzione, sono sicuro che da questa vicenda non uscirà nulla per quanto mi riguarda e spero anche per altri amministratori perché ripeto si basano queste cose che vengono dette sui giornali su documenti totalmente sbagliati io potrei dimostrarlo, quello che farò, ecco questa è l'ordinanza a cui fa riferimento le notizie bene è questa l'ordinanza dove non c'è, è tutta perfettamente lineare invece nelle indagini si basano su altre ordinanze e su altri documenti mi dispiace, io continuo a avere fiducia ma voglio concludere riflettere sui cittadini quante sono le persone indagate che poi sono state prosciolte magari molto tardi e faccio riferimento ad una persona c'è una scienziata che era stata eletta nel Parlamento italiano si chiama Eliana Capua è stata due anni sui giornali con accuse pesantissime quando ha potuto dimostrare che non erano vere ed è stata prosciolta questa scienziata si è dimessa dal Parlamento ma se n'è andata dall'Italia dicendo che questo non è un paese civile e adesso questa scienziata è ricercatrice in Florida ed è andata via perché è stata due anni imputata sui giornali senza che potesse dimostrare poi lo ha fatto dopo due anni la sua totale innocenza in questa fase questo è il nostro paese purtroppo ma io sono fidocioso che alla fine tutto sarà totalmente chiarito